Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Fiorello, il celebre comico siciliano, continua a incantare il pubblico dopo oltre tre decenni nel mondo dello spettacolo. Dai suoi esordi travolgenti con Radio DJ e Mediaset agli indimenticabili successi nazionali, il suo percorso è stato segnato da un carisma innato. Fiorello ha confessato di dover combattere quotidianamente con questa terribile sensazione, ansia. Questa ansia lo spinge costantemente a dare il massimo e a cercare di eccellere. Ma talvolta diventa veramente ossessiva. Ha ringraziato Amadeus, affermando che il conduttore è sempre molto vicino a lui e lo sostiene costantemente. La loro è un'amicizia autentica in ogni aspetto. Nonostante il suo successo travolgente, per Fiorello la vera felicità risiede nella sua casa. Fiorello ha sottolineato che la pressione di superare costantemente se stesso è una costante nella sua vita. Tuttavia, ha rivelato che la sua forza risiede nell'autenticità e nel sostegno di sua moglie, Susanna, la sua confidente. Susanna è la sua roccia, e grazie al suo sostegno. Fiorello ci insegna che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna e che l'autenticità e il supporto dei propri cari sono fondamentali per perseguire la serenità e il successo nella vita.